Nadia Terranova, scrittrice di molti romanzi e poi racconteremo anche quali. Questo tuo ultimo romanzo, Addio fantasmi, è stato finalista nella cinquina del premio streca, ha avuto ottime recensioni e sta andando molto bene. Una storia familiare, un libro sul dolore, sul dolore per la scomparsa di un padre nel modo più inquietante, perché appunto scompare e va via e quindi è un libro alla ricerca anche di se stessi. Per togliere tutta una serie di maschere, forse anche questi, sono i fantasmi di una certa rispettabilità e garbo borghese che non soddisfa di una vita di coppia a volte faticosa. Viene da chiedersi subito, visto che è un libro pieno di dolore, che proprio grazie al dolore poi cambia e si ricrea, quanto ci sia di personale nella storia della protagonista, Ida, quanto sei tu, perché un po' ci si intenerisce a pensare a questa bambina, ragazza e poi donna come bloccata da un dolore che non può risolvere, perché il corpo del padre che viene a mancare non c'è. C'è un personaggio di Jonathan Safran Foer che a proposito di quello che sta scrivendo dice non è la mia vita ma sono io ed è quello che io vorrei sempre rispondere a proposito dei miei romanzi, mentre poi viceversa guardando la sua vita quel personaggio dice è la mia vita ma non sono io e quindi direi che quello che succede nella letteratura è un po' questo, non c'è niente dei fatti che capitano a Ida che siano davvero successi a me o comunque molto poco o comunque un confine dal quale si entra e si esce con grande rapidità e con talmente tanta labilità che mi è complicato, mi è difficile segnarlo questo confine, però ho dato a Ida certamente le possibilità di sguardo che io stessa ho su tutto, sulla vita, sul mondo, sull'universo delle relazioni di coppia, genitoriali, amicali, quindi tutto quello che le accade avrebbe potuto accadermi e tento in questo libro di esplorarlo fino in fondo, senza appunto maschere, non c'è questa maschera di come Ida si dovrebbe raccontare, un personaggio che può suonare spigoloso e può suonare assolutamente combattivo della propria guerra e apparentemente anche chiuso, ma perché è una persona che si sta raccontando a se stessa. Qual è la guerra Nadia? Quotidiana di resistenza e di sopravvivenza, il libro è dedicato ai sopravvissuti, che sono le persone che sono sopravvissute, una scomparsa, una perdita e quindi tutte, ma certamente Ida è una sopravvissuta che ogni giorno cerca di ricordare a se stessa che ce l'ha fatta, nonostante la tragedia e il trauma che l'ha colpita e quindi non è semplicemente una logica del vincente, non c'è nulla di vincente in quello che lei fa, c'è piuttosto un arrangiarsi quotidiano rispetto a quello che si può fare e a quanto oltre si può spingere il suo desiderio di essere diversa da quello che il destino aveva previsto per lei, ovvero schiacciata dentro quella casa di famiglia da cui si allontana. Tu hai detto che questo tuo libro non ha un tema, ma il tuo riferimento privato è la tragedia greca, cioè il lutto, l'assenza d'amore nel matrimonio, la vita e la morte. E la scelta, soprattutto quando tutte le scelte che si hanno davanti sono sbagliate, quando tutte le scelte portano a una catastrofe, sono complicate, è facile scegliere se da una parte c'è tutto positivo e dall'altra c'è il male, c'è il negativo, ma innanzitutto è difficile riconoscere che cosa ci sia da una parte e che cosa ci sia dall'altra. E poi è difficile fare la tara, mettere le cose sul pallottoriere, quindi Ida è una persona che continuamente deve scegliere, scegliere che cosa dire e non dire alla madre, al marito, all'amica, scegliere chi essere, scegliere cosa tenere, cosa buttare, che è il mantra sugli oggetti di casa che la madre le ripete. Sei venuta qui, sei tornata nella tua casa d'infanzia perché devi scegliere cosa tenere, cosa buttare, che significa chi sono io, che cosa voglio tenere di me, del mio passato, che ombra voglio lanciare sul mio futuro e che cosa invece voglio lasciare andar via e se riesco a lasciarlo andar via. Tu sei una che tiene o butta in genere? Io ho imparato l'arte dell'equilibrio, nel senso che vengo da una famiglia di accumulatori e poi a un certo punto sono stata folgorata dalla poesia di Elisabeth Bishop, l'arte di perdere le cose, in cui si racconta appunto con allegria come si possa perdere tutto, le chiavi, un continente intero, dice a un certo punto la poeta e allora ho imparato anche io a perdere senza troppi rimpianti. Senti, è un libro anche sulle radici familiari, è interessante come tu tratti il tema della famiglia perché c'è una madre tremenda e la figlia e la madre si guerreggiano perché tutte e due hanno una ferita che in qualche modo imputano all'altra, anche se nessuno delle due ha colpe, come se si sentissero responsabili della fuga, dell'assenza di questo padre. Ma allo stesso tempo è un legame molto forte quello tra madre e figlia, no? Non ci sono madri che non siano terribili, quando Ida dice che finalmente comprende che cosa sia una madre, ovvero qualcosa da cui non esiste riparo, in questo irreparabile c'è tutto il segreto del rapporto madre-figlia, cioè non c'è un posto dove lo sguardo di una figlia possa essere al riparo da quello della madre, che è qualcosa di estremamente protettivo, è bello, è armonioso ma è anche qualcosa di terrificante, non c'è un luogo dove la figlia possa non essere nuda, possa indossare un'armatura. Senti, c'è una famiglia che appare nel romanzo, che sembra una famiglia un po' strana, una famiglia di evangelici che prega sempre, eccetera, però quando Ida entra in questa famiglia si sente in qualche modo accolta, ce la guarda con stupore perché sono un po' strani, sono tanti, tanti figli, però è come se si sentisse favorevolmente stupita da questa famiglia che lei non ha avuto di fatto, no? Nella famiglia di Ida avige il paganesimo, non c'è una divinità e quando non c'è un dio non c'è né chi ringraziare né chi incolpare, quindi la famiglia di Ida è una famiglia che segue delle divinità improvvisate, particolari oppure ancestrali, ataviche, assolutamente personali in una costellazione unica tracciata da Ida e dalla madre stessa, invece la famiglia che c'è nello stesso pianerottolo è una famiglia credente che sa perfettamente chi ringraziare, che sa quindi dove indirizzare il dolore e la gioia ed è una famiglia fertile che sta dentro il cambiamento, al contrario della famiglia di Ida che da quel cambiamento si è sottratta. Sono due antipodi, due modalità completamente diverse, scorgiamo negli occhi di Ida una curiosità ma anche negli occhi di Giuliana che è la figlia, la coetanea di Ida, ormai sposata anche lei, scorgiamo un'altrettanta curiosità verso la vita di Ida e l'accoglie dicendo che il mio marito ascolta sempre il tuo programma, quindi c'è un guardarsi reciproco. Sì perché Ida è anche un po' lei scrittrice, vero Nadia? Sì lei lavora per la radio, si scrive Finte storie vere che poi è la mia definizione di letteratura. Finte storie vere, dove se le inventi, dove le trovi? Ma in questo libro per esempio, questo libro è una finta storia vera, è scritta con un io che può dar modo di pensare questo io con baci, con l'io di chi l'ha scritto, invece è un io che io ho indossato, una prima persona che ho indossato per poter stare comoda dentro questa storia e per poterla raccontare nella sua verticalità, nella sua profondità. È un libro anche sulle radici perché parla di famiglia, parla di un legame forte con un padre che poi viene a mancare, come se mancasse la radice di un tronco e anche la Sicilia è una radice, la tua Messina che è, la Sicilia è tutta una terra tragica, c'è un po' di nostalgia che è proprio il dolore del ritorno come dicevano i classici, no? E' vero, c'è… Questo è sia di Ida che di te? Sì, di entrambe, io appunto penso sempre alle due parole tedesche che dicono la parola nostalgia, una è nostalgie e l'altra è Heimweh, cioè il dolore della casa, perché Heim è la radice appunto di ciò che è casa e di ciò che è intimo. Direi che Ida prova più Heimweh, cioè prova questo dolore del ritornare a casa, che è un dolore che la guida verso casa e che però nell'idea stessa di casa le fa male perché le ricorda non soltanto un riparo ma un luogo di massima esposizione di sé, che è la famiglia. Senti, Ida è una persona così perbene apparentemente, così garbata, così stimabile, però nasconde un grande tormento. Alle volte il garbo è pericoloso, preoccupante, le persone troppo garbate dovrebbero inquietarci un po'? Beh, il garbo serve a tenere distanti gli altri e quindi è difficile che una persona che ha veramente sofferto sia davvero molto aggressiva. Può capitare perché gli incroci tra psiche e comportamenti… Può fare rabbia, no? Apparentemente che scorre senza una trama precisa, ma è pieno di porte che si aprono, è pieno di storie, è pieno di volti, è pieno di temi, proprio uno accanto all'altro e uno dentro l'altro. Uno diventa pieno, zeppo di riferimenti, fa pensare tantissimo questo tuo libro. E dicevo, la realtà irrompe e davanti a Ida si affaccia il dolore degli altri e lei era tutta ovviamente presa e centrata sul suo dolore e quindi anche un po' insensibile a quello altrui e a un certo punto davanti al dolore di due persone, dolori fortissimi, cambia. Il dolore degli altri ci fa cambiare. Quando siamo pronti a guardarlo sì, non lo siamo sempre, quindi non è necessariamente una cosa positiva, aprirsi al dolore degli altri, ci vuole tempo e soprattutto è qualcosa che non si può imporre, ognuno ci arriva con le proprie strade. Senti, tu hai detto che scrivi, hai detto tante cose perché tu scrivi sui giornali, scrivi su Repubblica, sul Foglio, quindi uno va a guardare anche i tuoi articoli, scrivi per tollerare il dolore della finitezza e della morte, per difenderti dalle offese della vita, tu ritieni di avere dei crediti della vita perché tutti hanno offese i dolori? Credo tutti, sì, ognuno elabora il proprio modo di neutralizzarli o di ricompensarli, credo che l'importante sia non aspettarsi che siano gli altri a risarcirci perché quel risarcimento potrebbe non arrivare mai, anzi quasi sempre, perché in giro siamo milioni di persone, ognuno convinta di essere in credito rispetto alla vita e di avere diritto un risarcimento e quindi quasi mai qualcuno pensa a risarcire qualcun altro, di solito i rapporti tra le persone, quelli liberi, adulti funzionano come degli scambi e allora aspetta chi si sente in credito di andarsi a prendere quello che pensa gli sia dovuto. Non c'è il rischio che in qualche modo la letteratura diventi un modo vicario, supplettivo di vivere la vita, nel senso che noi dovremmo fare un'opera d'arte di tutta la vita, non solo della scrittura, della nostra esperienza artistica. È anche impegnativo pensare di dover fare un'opera d'arte di sé, ma non è detto che qualcuno voglia o che si senta in grado o che non viva questo come una sfida anche troppo grande, poi la vita è fatta di infiniti momenti e anni e mesi completamente diversi, credo che ognuno possa elaborare da solo le proprie strategie. La letteratura è una lente per guardare il mondo e il mondo a volte è una lente per guardare la letteratura, ci sono dei momenti in cui leggere è infinitamente più soddisfacente che vivere e viceversa, dei momenti in cui si è talmente tanto impegnati a vivere che non c'è tempo per leggere, direi che stiamo tra questi due poli noi che leggiamo. Tu sei una grande lettrice fin da quando eri piccola? Sì, io sono stata figlia unica di genitori che si sono presto separati, in un'epoca ovviamente senza internet e quindi passavo lunghi pomeriggi a leggere, ad andare a finire in mondi completamente diversi, dall'America ai mari, stavo con i corsari e poi con le ragazze di piccole donne, poi con Poglianna e poi ancora col Corsaro Nero. Sei andata sui classici? Sono andata dappertutto, sì, di solito ho cominciato con i classici ma in realtà leggevo tutto, anche Topolino, leggevo i romanzi d'amore, leggevo tutto. E non hai mai pensato di vivere vite parallelo, di perdere tempo, oggi siamo fagocitati dal tempo che scorre in maniera così veloce, per cui già solo prendere un libro in mano sembra una parentesi troppo forte. È cambiato il modo in cui si legge, quando io ero ragazzina leggiavo per distrarmi rispetto alla noia, adesso leggo per avere uno spazio di respiro e di silenzio mio, cioè mentre prima c'era il nulla intorno e quindi io ricreavo mondi, adesso devo fermare il mondo e creare un po' di spazio intorno. Carina questa diversità. Senti, cito da un tuo pezzo sul foglio che mi aveva molto toccato. Avevo sofferto in modo smisurato a un'età in cui dovrebbe essere vietato dalla legge soffrire. Beh, uno legge questa frase e dice, bisogna chiedere perché. Beh, ognuno, i bambini non dovrebbero soffrire, questo c'è evidente, è una regola universale. Di fatto i bambini soffrono. Più degli altri. Tantissimo e tutti soffrono perché stanno in mezzo a una guerra, soffrono perché sono vittima degli adulti, soffrono anche delle cose piccole, però in realtà noi diciamo e predichiamo e cerchiamo magari ognuno di fare in modo che i bambini non soffrano, però di fatto il tabù più grande, quello con cui dobbiamo fare i conti è il dolore dei bambini. E come lo si spiega? C'è, non lo so, io lo spiego con la finitezza umana, c'è chi lo spiega con una divinità, con un Dio, con l'assenza di un Dio, ognuno ha la sua risposta. Purtroppo il dolore fa parte degli esseri umani e nasce con noi. Credo che sia il più grande scandalo della nostra mentalità e della vita, il dolore in generale e il male. Credo che un Dio non serve per risolvere questa domanda, casomai la apre o ti dà una chiave per leggere in un'altra maniera ma non risponde. Certo, anche la filosofia del resto. Ci hanno provato due mila anni di teologi, non c'è riuscito nessuno a spiegare il perché. Anche qualche migliaio di filosofi, ma non si può. È un grande privilegio poter fare la scrittrice come mestiere, tu lo vedi come un mestiere, nel senso che si può dire che se scrittore è un mestiere? È vero, non siamo in tanti a vivere di quello che scriviamo, in Italia almeno, ed è sicuramente un privilegio. Ho difficoltà a pensarlo soltanto come un mestiere, ma anche a non pensarlo come un mestiere. Per due motivi. Intanto perché la libertà della creazione artistica ha sempre a che fare con la committenza, anche con l'autocommittenza. Cioè, con il dirsi, però, voglio incanalare questo che sto scrivendo in un racconto, un romanzo. Voglio che questo che sto scrivendo non vada in tutte le direzioni possibili, ma nel suo espandersi vada verso una direzione. Questo aiuta, a me aiuta molto a scrivere gli articoli, scrivere i racconti brevi, mi ha aiutato a costruire bene poi la struttura dei romanzi. Però, d'altra parte, forse considerarlo solo un mestiere è anche qualcosa che contiene in sé uno strabordamento, ma non so, credo che poi tutti i mestieri non siano soltanto dei mestieri, anche fare il dentista benissimo c'è molto di più. Io uso la parola vocazione, che significa una chiamata particolare, hai propri talenti, hai propri desideri. Io però farei così, dico, oddio, non ho un'idea, oddio, non sono in grado di realizzarla, quindi è inutile che scriva, magari mi metto a fare altro. Ecco, tu invece hai una disciplina e ci credi. Diciamo che però se io partissi dall'idea di dover scrivere in astratto, non scrivere in riga anche io penserei, non ho idee, eccetera, in realtà si parte dall'idea, cioè io penso vorrei dire questa cosa come la posso dire, perché è inutile pensare di scrivere, scrivere non vuol dire nulla, è un esercizio della mano o delle due mani sul computer, quindi è lo strumento con cui dici qualcosa. Se sapessi disegnare probabilmente penserei a come dire la stessa cosa con le immagini. Questa è l'arte appunto. Tu hai scritto e continui a scrivere libri per ragazzi. Ora, a me infastidisce un po', ce lo siamo già detti questo termine, letteratura per ragazzi, che in qualche modo la sminuisce, come dire non è vera letteratura. Credo invece che i ragazzi siano tra i più assidui e appassionati lettori e poi tu eri una ragazza quando hai letto Salgari, Verne, Alcott, eccetera, quindi io pure, quindi non vale questo discorso e non parliamo di libri di gomma per i bambini, capito, parliamo di letteratura. I grandi scrittori per ragazzi sono dei grandi scrittori, punto finito. Tuttavia ci vuole un'arte particolare, non scrivere per ragazzi, perché ad esempio il dolore, come abbiamo parlato prima, va trasmutato, non glielo puoi sbattere in faccia in maniera crudele? Ci sono modi, lingue, linguaggi, forme anche dei libri che servono a dare una forma appunto anche al dolore puro, si può raccontare tutto ai bambini, in realtà le favole sono i luoghi in cui accade ogni cosa, in cui ci sono le pulsioni, ci sono i lupi, ci sono i boschi, ci sono i cattivi, c'è la morte, c'è la trasformazione, c'è la perdita, c'è l'essere orfani, cioè in realtà le favole sono piene di crudeltà, sono raccontate attraverso un universo simbolico che lo rende, rende tutto questo intellegibile ai bambini e fornisce loro una palestra dove allenarsi alle emozioni che piano piano viveranno nella vita. Quindi tu non sei contraria come è stata tutta una certa pedagogia negli anni 70-80 alle fiabe? No, io sono favorevolissima, sono contraria alla loro riscrittura in chiave edulcorata. Oh brava, politicali corretti, no? Sì, tra l'altro creano anche dei grandissimi equivoci perché se tu non hai il male fino in fondo da un lato non puoi neanche sconfiggerlo, accettarlo e poi i bambini non sono alla ricerca di una identificazione immediata, cioè non è che le fiabe sono modelli comportamentali, le fiabe sono dei luoghi di esplorazione di sé e quindi devono essere il più terribili possibile. Ci sarà motivo se anche i grandi, magari a cui sono state tolte le fiabe da piccoli, si buttano alla letteratura fantasy? Certo, anche, e anche per continuarla la letteratura con altri mezzi. Senti, tu come hai imparato a scrivere per bambini? Cioè ti sei messa a dire, adesso impara a scrivere per bambini, hai un'esperienza personale, cioè come viene? Dunque io amavo moltissimo uno scrittore, amo moltissimo uno scrittore che è Bruno Schulz, che è uno scrittore ebreo polacco che ha raccontato l'infanzia agli adulti però nel suo libro Le botteghe color cannella. Io a un certo punto mi sono resa conto che era uno scandalo che Bruno Schulz, che aveva avuto un'infanzia così particolare, non potesse essere conosciuto dai bambini e quindi ho scritto un racconto per bambini sulla sua vita. In realtà non avevo mai smesso di leggere letteratura per ragazzi. Mi ero a un certo punto arenata sull'evidenza che ero rimasta tra i pochi a continuare a leggere libri della mia adolescenza, a leggere libri per ragazzi, a divertirmi ancora con i libri per ragazzi. Salgari, per esempio, chi? Stevenson? Anche tutti gli scrittori italiani che hanno scritto per ragazzi, Puzzati, Calvino, Elsa Morante, c'è una tradizione comunque anche in Italia di scrittori che hanno sempre scritto per adulti e per ragazzi. Io ho sempre amato anche le scrittrici americane per ragazzi, appunto May Elcott soprattutto, ma poi ci sono anche degli snodi strani. Genaire, è un libro per ragazzi o no? Perché io l'ho letto a 14 anni e l'ho anche visto recentemente giustamente in delle edizioni per ragazzi. Tolkien scrive per i ragazzi o no? Di tanti si potrebbe fare la stessa domanda. Senti, come ci si libera, Nadia, dalla paura e dal dominio del dolore? Che è presente in tutti i tuoi libri, questi due libri per grandi ma anche quelli per bambini. Credo entrandoci in dialogo, non pensando di eliminare parti di sé, di amputarsi parti di sé o di risorgere a un certo punto. Mi fa molta paura l'idea di una trasformazione che elimina qualcosa. Mi interessa molto di più il modo in cui entriamo in dialogo con quella parte oscura. La tua protagonista entra in dialogo, si arrovella su quest'ombra, su questo fantasma che l'accompagna, però c'è un momento liberatorio in cui lei respira e butta via. Sì, c'è, ma più che liberarsi sta creando una tomba. Il padre scomparso non ha una tomba, non c'è un posto in cui lo si può piangere e lei in quel modo, con quel gesto, ponendo quella scatola in un punto preciso, lei crea una tomba per il padre. Hai scritto, è stato definito un romanzo intimista. Lo definisci così? Perché il suffissoismo determina sempre qualcosa di negativo. Parlare dell'intimità forse non significa essere intimisti, perché l'intimità è di tutti, quindi diventa poi un regalo in qualche modo a tutti poter esprimere quello che c'è dentro, o no? È vero. E poi è sempre difficile definire un romanzo intimista, storico, politico. Tutti i più grandi romanzi storici hanno dentro un cuore molto intimo, ci raccontano spesso la chiave personale, biografica, ma più nascosta di quel personaggio, per esempio, che pensavamo di conoscere per le sue geste e invece ce ne viene segnalata, mostrata, indagata una parte familiare. Così come in questo romanzo intimo ci può essere anche una forte connotazione politica nel raccontare, per esempio, un certo sceto medio siciliano, chiuso, intellettuale, impiegatizio, isolano e quindi anche isolato, quindi non è detto che un romanzo intimista non sia un romanzo sociale e viceversa. Poi hai raccontato molto bene l'intimità di diverse donne, la madre, la figlia, l'amica, l'altra, la vicina di casa. Ci tieni a dire che sei una scrittrice donna che ama scrittori di donne. Ora, non dobbiamo stare qua a fare questioni di genere, no? Le quote, grazie a Dio, nell'arte e letteratura non ci sono. Però è anche interessante che tu ci tenga tanto a esprimere e rivendicare questa femminilità che ci rende diversi l'uno dall'altro. Credo che sia importante ribadirla non tanto perché c'è o ci deve essere una preferenza, perché è chiaro che la letteratura è androgina e che noi scegliamo di volta in volta ciò che ci piace indipendentemente dal sesso di chi l'ha creata, quella cosa. Però è anche vero che nella rappresentazione della letteratura le donne che hanno sempre scritto molto e che hanno scritto molti bei romanzi, anche se a volte con più difficoltà a far pubblicare quante sono le donne che hanno dovuto firmarsi con un pseudonimo maschile o che hanno pubblicato senza mai poter seguire i loro romanzi perché dovevano stare dietro alla famiglia. Quindi è invece importante che nel racconto della letteratura si indichi chiaramente quale stato è e deve essere il ruolo delle donne. È stata una sorpresa per te arrivare finalista al premio più importante che c'è in Italia, che in qualche modo acclara il pubblico, che sono i lettori che acclarano il successo di uno scrittore. Insomma i premi letterari aiutano a dare voce. È stata una relativa sorpresa perché nel corso dei messi seguiti alla pubblicazione del libro ho osservato come era recepito dai lettori, io non lo sapevo, non potevo saperlo e quindi ho visto piano piano, l'ho visto crescere, l'ho visto il passaparola, ho letto le critiche, le recensioni e quindi ho capito che stava camminando. Avevi bisogno di questa fiducia o ce l'avevi già, sei una persona che ce l'ha in sé la fiducia? Ma noi possiamo anche essere convinti di ciò che scriviamo, senz'altro nel momento in cui io lascio andare un libro e c'è il visto si stampi, io credo di avere fatto il meglio che potevo fare per quel libro, però questa fiducia ha un riscontro anche che è quello dei lettori, che è quello dei critici, che naturalmente non è anche lì una sovranità assoluta perché ci sono libri bellissimi, capolavori che sono stati ignorati e ci sono dei libri magari mediocri che invece hanno avuto un successo inspiegabile, però è anche vero che ci sono libri bellissimi che hanno avuto tantissimo successo e libri mediocri che sono stati giustamente ignorati, quindi ogni caso va valutato. Certo scrivere per se stessi non è il massimo per uno scrittore. Non hai mai tenuto un diario? L'ho tenuto fino a quando non sono diventata una scrittrice, cioè quello che volevo essere, cioè quando ho deciso finalmente di autorizzarmi a scrivere per pubblicare il diario è venuto meno, adesso ho dei taccuini dove segno delle cose che magari poi utilizzo per le cose che scrivo, però è difficile che io mi metta a scrivere per me, se scrivo penso sempre di voler dire qualcosa agli altri. E questo anche quando scrivi tu articoli sui giornali, dove bisogna per forza rispondere alla realtà, quindi giudicare le cose che capitano, c'è un modo diverso di affrontare le cose che non in un romanzo, nel commento, nel giudizio, in un articolo di giornale in genere, quali sono i temi che ti sono più cari? Io cerco sempre di scrivere di cultura e di costume, quindi delle cose che conosco mi capita raramente di essere chiamata a commentare l'attualità e lo faccio solo in relazione a degli argomenti su cui sento di poter dire qualcosa, più che da analista dal mio punto di vista e dal mio sguardo. Recentemente mi sono trovata a commentare i dati di vendite di Amazon in Sicilia, la Sicilia è l'ultima per vendite di Amazon e allora anziché fermarmi semplicemente a questo, sono andata a vedere cosa invece succede nelle librerie siciliane che è girato molto e conosco molto, quindi ho dato un commento su un dato, però come dire ci ho messo dentro tutta la mia esperienza. Si comprano più libri in libreria? Secondo me sì, molto. Tu li compri in libreria? Sì sì, io li compro in libreria e devo dire che soprattutto in Sicilia è importante il lavoro dei librai che è spesso un lavoro di resistenza culturale. Ma dappertutto, è un lavoro di resistenza culturale ed è importante dappertutto, non soltanto in Sicilia, soprattutto nelle grandi città che ormai ne sono prime. Perché anche nei quartieri è fondamentale, anche nei quartieri delle grandi città. In realtà la libreria non è soltanto il posto dove vai a comprare i libri, ma vedere che c'è un luogo dove può capitare di andare a una presentazione o di entrare a fare due chiacchiere sullo stato delle arti o di incontrare qualcuno che può suggerirti o semplicemente uno spazio dove si vedono dei libri piuttosto che altri oggetti è importantissimo. Ci mancano oggi delle realtà mediane e ci mancano dei maestri? No, credo che ci siano, però bisogna andarseli a stanare in maniera un po' più contorta rispetto al passato. E poi io non ho paura di questa parola maestro, tante volte dicono ah il maestro non ci sono maestri perché io ho avuto e spero avrò sempre maestri e chissà magari anche si può essere inconsapevolmente o consapevolmente maestri di qualcun altro. è una parola bellissima che indica l'insegnamento, Shasha la usava per sé però soltanto come maestro elementare che era una professione che aveva svolto e forse lui si arrabbierebbe ma in realtà io credo che lui per me sia stato un maestro anche non avendolo conosciuto. Assolutamente, in qualche modo l'idea di trasmettere un messaggio, una visione del mondo, degli ideali fa parte della tua volontà di scrivere? Sì, certo, senza altro ho imparato negli anni ad avere meno paura della tentazione di essere morali, non moralisti ma morali perché certamente c'è una visione del mondo nelle cose che si scrivono ed emerge, forse preferisco più che emerga da sé piuttosto che prepararla, predisporla perché credo che la narrativa sia soprattutto esplorazione e divertimento che non è intrattenimento ma è un divertimento sempre gnosiologico. E anche responsabilità. Sì, lo è sempre perché stiamo facendo una cosa, un gesto, stiamo ripetendo un gesto che prima di noi hanno fatto quantomeno Esquillo e Shakespeare quindi bisogna sempre tenere presente. C'è questo pensiero quando scrivi? Sì, certo, bisogna pensare che stiamo facendo qualcosa che hanno fatto padri e madri della letteratura prima di noi, quindi bisogna tenere alta la guardia, naturalmente senza essere così esigenti sui risultati e così presuntuosi, però credo che avere obiettivi alti aiuti a fare al meglio il proprio lavoro. Regalami una canzone che ti racconta in qualche modo. Io vorrei adesso, visto che abbiamo parlato di un padre scomparso e di questo libro che appunto racconta una ricerca di sé, mi piacerebbe che ci fosse e ti vengo a cercare, cantata da Battiato. Grazie Nadia, grazie mille. Grazie mille.